Qual è la questione? È una buona questione perché tutti i ritori, specialmente nella moderna era, lavorano molto sull'esercizio e anche sull'esercizio. Ho un'esercizio straordinario perché in tutta la mia carriera sempre ho tre, con tre finger. Sì, proviamo un po' diverso per migliorare il braking. È un lavoro difficile, ma proviamo. E oggi, non sono fantastico nel braking, ma in generale per il settore. Siamo tutti molto vicini e ho aspettato più. al prossimo episodio è www.corneringconfidence.com Also there is a brand new interactive online course built on the best online learning platform you can get And it's a pretty reasonable price I also have a monthly newsletter, social media where I'm sharing information Got a ton of free videos right here on YouTube for you to watch And I guess my goal is that you find Cornering Bliss